ciao sono il dottor max che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci e non solo in questa nuova serie di video dedicata ai parafarmaci ti leggerà i foglietti illustrativi degli stessi prima di iniziare ti ricordo di iscriverti al canale mettere un mi piace al video e commentare con le tue esperienze personali in base ai prodotti utilizzati in modo da avere sempre a portata di mano uno strumento utile a tutti che ti aiuterà ad ottimizzare le cure per la tua salute grazie alle esperienze condivise in questo video esaminiamo il parafarmaco arnica e il 99 a cosa serve arnica e il 99 a un parafarmaco appartenente alla categoria degli massaggi e sport e commercializzato in italia dall'azienda union bio srl informazioni commerciali titolare union bio srl concessionario union bio srl categoria di appartenenza massaggi e sport confezioni arnica e il 99 gel massaggio corpo sollievo immediato 500 ml indicazioni massaggio corpio nelle zone sottoposte a piccoli traumi contusioni strappi muscolari o nei fastidi cronici per un sollievo immediato per riprendere l'energia e per cento per cento benessere modalità d'uso massaggiare lievemente descrizione e caratteristiche arnica e il 99 a un gel per il corpo frutto della ricerca scientifica union bio che unisce la potenza degli estratti vegetali all'innovazione il complesso molecolare di arnica montana assicura un'elevata concentrazione di principi attivi e in sinergia con artiglio del diavolo e acacia ne completa la funzionalità l'arnica montana ha una pianta conosciuta fin dall'antichità per le sue proprietà antinfiammatorie antidolorifiche antisettiche utili nel trattamento di dolori muscolari traumi ed infiammazioni l'artiglio del diavolo arpa gofit un procumbens dave il suo nome bizzarro che riporta alla mente qualcosa di ostile alla forma dei suoi frutti duri e ricoperti di a euro sartiglia euro s che spesso rappresentano un pericolo e sono quindi considerati a euro sdiaboli cia euro s per molti animali che possono rimanere vi impigliati le sue proprietà analgesiche antinfiammatorie sono contenute nelle radici della pianta impiegata ormai da secoli nella medicina tradizionale di molti popoli la vita quotidiana ci sottopone a piccoli traumi contusioni strappi muscolari e fastidi cronici l'utilizzo di arnica e il 99 grazie alla sinergia tra i principi attivi delle due piante unite alle proprietà lenitive ed antinfiammatorie della caccia e potenziate da un estratto della pianta dell'olivo conferisce un sollievo immediato nelle zone del corpo interessate a un complesso fitosinergico vegetale con azione rinfrescante formulato e controllato in laboratorio e made in italy a è utile dopo l'attività fisica a è facile da applicare non unge e non contiene profumi alcolici dermatologicamente testato senza derivati del petrolio coloranti peg sls s less a eco friendly componenti e ingredienti acqua idro che si propi il metilcellulose glicerin sodium benzoate potassium sorbate o lea europa ea fruit oil arnica montale tana flower extract citric acid parfum arpagofitum procumbens rot extract acacia senegal gum extract fonte codifa l'informatore farmaceutico grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video buon proseguimento ci vediamo al prossimo paratarmaco esaminato